La festa di comple morte Arrivò ottobre, che stese una coltre di freddo umido sui campi e nel castello. In infermeria, Madame Pomfrey ebbe il suo da fare a curare un'improvvisa epidemia di raffreddore che aveva colpito professori e studenti. La sua pozione peperina aveva un effetto immediato, anche se lasciava con le orecchie fumanti per molte ore. Ginny Weasley, che aveva anche lei un'aria smunta, fu costretta da Persi a berne un po' e col fumo che le usciva da sotto i capelli rossofuoco sembrava proprio che avesse la testa in fiamme. Per giorni e giorni gocce di pioggia grosse come pallottole picchiarono sulle finestre del castello. Il livello del lago salì, le aiuole divennero rigagnoli fangosi e le zucche di Hagrid raggiunsero le dimensioni di capanni da giardino. Ma l'entusiasmo di Oliver Wood nell'organizzare regolarmente gli allenamenti non venne meno. Fu per questo motivo che in un tempestoso sabato pomeriggio, pochi giorni prima di Halloween, Harry ritornò alla torre di Grifondoro, fradicio fino al midollo e completamente insaccherato. Anche escludendo la pioggia e il vento, non era stato un allenamento felice. Fred e George, che avevano spiato i serpeverde, avevano constatato con i propri occhi la superiorità delle nuove Nimbus 2001. Riferirono che la squadra dei serpeverde era composta da sette indistinguibili saette verdine che sfrecciavano nell'aria come aerei da decollo verticale. Harry aveva imboccato il corridoio, sciaguattando con le scarpe piene d'acqua, quando incontrò qualcuno dall'aria preoccupata, quasi quanto la sua. Nick, quasi senza testa, il fantasma della torre di Grifondoro, stava guardando cupamente fuori dalla finestra e bofonchiava tra sé e sé. «Non risponde ai requisiti! Un centimetro e mezzo a dir tanto!» «Salve, Nick!» gli fece Harry. «Salve, salve!» rispose lui sobbalzando e guardandosi intorno. Di traverso sui lunghi capelli ondulati portava un magnifico cappello piumato e indossava una tunica con una gorgiera che impediva di vedere che la sua testa era quasi del tutto recisa dal collo. Era pallido come un cencio e attraverso il suo corpo evanescente Harry poteva vedere il cielo scuro e la pioggia che veniva giù a catinelle. «Mi sembri preoccupato, giovane Potter!» disse Nick ripiegando una lettera trasparente e riponendola nel farsetto. «Anche lei!» disse Harry. «Ah!» Nick, quasi senza testa, agitò una mano con gesto elegante. «Una questione di scarsa importanza. Non è che proprio desiderassi di entrare a far parte...» Avevo pensato di fare domanda, ma a quanto pare non rispondo ai requisiti. A dispetto del tono disinvolto, la sua faccia esprimeva una profonda amarezza. «Ma non avresti pensato anche tu...» sbottò tutta un tratto ritirando fuori la lettera. «Che essere stati colpiti al collo 45 volte con un'ascia non affilata avrebbe dovuto rappresentare un buon passaporto per partecipare alla caccia dei senza testa?» «Beh, sì», rispose Harry, da cui il fantasma si aspettava ovviamente un consenso. «Voglio dire, nessuno più di me avrebbe desiderato che tutto avvenisse nel modo più rapido e pulito e che la mia testa si staccasse come si deve. Voglio dire, mi avrebbe risparmiato un bel po' di dolore e di ridicolo». «Tuttavia...» Nick, quasi senza testa, spiegò la lettera e lesse con voce furibonda. «Possiamo accettare soltanto cacciatori la cui testa si sia completamente separata dal corpo. Lei comprenderà certamente che altrimenti non sarebbe possibile ai soci partecipare ad attività di caccia quali i giochi di destrezza a cavallo con lancio e ripresa della testa e il polo con le teste al posto della palla. E quindi la informiamo, con grandissimo rammarico, che lei non risponde ai nostri requisiti. Con i migliori auguri, Sir Patrick Delaney Podmore». Fumante di collera, Nick, quasi senza testa, ripose la lettera. «Per un centimetro e mezzo di pelle e di tendine che mi tengono attaccata la testa al collo, Harry. Chiunque penserebbe che uno debba considerarsi bello decapitato e invece no! Per ser decapitato per bene Podmore non basta!» Nick, quasi senza testa, tirò alcuni respiri profondi e poi, con tono più calmo, disse «Allora, cos'è che ti preoccupa? Posso fare qualcosa per te?» «No», rispose Harry. «No. A meno che lei non sappia dove potrei trovare gratis 7 Nimbus 2001 per la nostra partita contro i Sir». Il resto della frase fu coperto da un acuto miagolio all'altezza delle sue caviglie. Abbassò lo sguardo e vide un paio di occhi gialli e grossi come fanali che lo fissavano. Era Mrs. Norris, la scheletrica gatta grigia di cui Filch si serviva come arma segreta nella lotta senza fine contro gli studenti. «È meglio che te ne vada di qui, Harry!» si affrettò a suggerirgli Nick. Filch non è di buon umore. Prima di tutto ha l'influenza e poi alcuni studenti del terzo anno gli hanno impiastricciato di cervello di rana tutto il soffitto del sotterraneo numero 5. Lui ha passato la mattina a pulire e se ti vede schizzare fango dappertutto... «D'accordo!» disse Harry sottraendosi allo sguardo accusatore di Mrs. Norris. Ma non fu abbastanza rapido. Attirato sul luogo dalla forza misteriosa che sembrava legarlo alla sua malefica gatta tutta un tratto. Filch schizzò fuori da un arazzo alla destra di Harry. Ansimante e stranunato alla caccia del trasgressore. intorno alla testa portava una pesante sciarpa scozzese e aveva il naso rosso come un peperone. «Su di ciube!» gridò con la pappagorgia tremula e gli occhi che mandavano pericolosi bagliori indicando la pozza fangosa prodotta dalla divisa sgocciolante di Harry. «Disordine e sporco dappertutto! Adesso ne ho abbastanza! Seguimi, Potter!» Harry fece un saluto depresso a Nick quasi senza testa e seguì Filch giù per le scale moltiplicando le impronte fangose sul pavimento. Prima di allora Harry non era mai stato nell'ufficio di Filch. La maggior parte degli studenti cercava di tenersene alla larga. Era un locale squallido e privo di finestre illuminato da un'unica lampada a olio che pendeva dal basso soffitto. Su tutto aleggiava un vago odore di pesce fritto. Lungo le pareti erano appoggiati degli armadi da archivio di legno e dalle etichette Harry capì che contenevano i rapporti su tutti gli alunni puniti da Filch. Fred e George Weasley avevano un intero cassetto tutto per loro. Appesa sulla parete dietro alla scrivania faceva mostra di sé una collezione lustra e smagliante di catene e manette. Tutti sapevano che Filch implorava continuamente silente di lasciargli appendere qualche studente a soffitto per le caviglie. Filch afferrò una penna d'oca da un calamaio posto sulla scrivania e cominciò a frugare in cerca di una pergamena. Sterco! imprecava furioso. Gran cacco le sfrigolanti di drago! Cervelli di rana! Intestini di topo! Non ne posso più! Tanto per fare un esempio dov'è il modulo? Ecco! Recuperò un grosso rotolo di pergamena dal cassetto della sua scrivania e lo srotolò davanti a Harry intingendo nel calamaio la lunga penna d'oca nera. Nome Harry Potter! Reato? Era solo un pochino di fango! Protestò Harry. Solo un pochino di fango per te ragazzo ma per me è un'ora di più da sgobbare! Sbraitò Filch mentre una sgradevole gocciolina gli pendeva dal naso subito il soluto. Reato! Insudiciava il castello! Condanna proposta! Strofinandosi il naso gocciolante Filch socchiuse gli occhi e rivolse uno sguardo antipatico a Harry che aspettava il verdetto col fiato sospeso. Ma Filch non aveva affatto in tempo ad abbassare la penna quando bang! Un colpo tremendo sul soffitto dell'ufficio fece tremare la lampada a olio. Peeves! Tuonò Filch gettando la penna in un impeto di rabbia. Questa volta ti prendo! Vedrai se non ti prendo! E senza degnare più di uno sguardo Harry si precipitò fuori dall'ufficio seguito a ruota da Mrs. Norris. Peeves era il poltergeist del castello una minaccia volante dal ghigno malevolo che viveva per provocare scompiglio e dare il tormento. A Harry Peeves non stava molto simpatico ma non poté fare a meno di essergli grato per il suo tempismo. Confidava che qualsiasi danno avesse combinato questa volta sembrava che avesse rotto qualcosa di molto grosso avrebbe allontanato da lui l'attenzione di Filch. Pensando di dover aspettare il ritorno del custode Harry si lasciò cadere sulla sedia tarmata vicino alla scrivania su cui era appoggiato un solo oggetto a parte il modulo lasciato a metà. una grossa e lucida busta color viola con qualcosa scritto in lettere d'argento. Harry lanciò un rapido sguardo alla porta per controllare che Filch non stesse tornando la prese e lesse. Speedy Magic corso di magia per corrispondenza per principianti. Incuriosito aprì la busta ed estrasse un foglio di pergamena in svolazzanti caratteri d'argento la prima pagina diceva non vi sentite al passo nel moderno mondo della magia? Vi accorgete di ricorrere a qualsiasi scusa pur di non eseguire gli incantesimi più semplici? Siete mai stati presi in giro per gli esiti scadenti della vostra bacchetta? Ecco la risposta per voi Speedy Magic è un nuovissimo corso dai risultati garantiti rapido e di facile apprendimento maghi e streghe a centinaia hanno tratto grandi benefici dal metodo Speedy Magic ecco cosa ci scrive la signora Zeta Nettols di Topsham non ricordavo nessun incantesimo e in famiglia le mie pozioni erano una barzelletta ora dopo il corso Speedy Magic sono diventata il centro dell'attenzione a tutti i ricevimenti e gli amici non fanno che chiedermi la ricetta della mia soluzione scintillante e il mago DJ Prod di Didsbury mia moglie mi prendeva sempre in giro per i miei mediocri incantesimi ma dopo un mese del vostro favoloso corso Speedy Magic sono riuscito a trasformarla in uno yak grazie Speedy Magic affascinato Harry esaminò il resto del plico perché mai Filch voleva seguire il corso Speedy Magic forse significava che non era un mago nel vero senso della parola Harry si stava cingendo a leggere la prima lezione come impugnare la bacchetta suggerimenti pratici quando dei passi strascicati lungo il corridoio annunciarono il ritorno di Filch rimise tutto dentro la busta e fece appena in tempo a scaraventarla sulla scrivania che la porta si aprì Filch aveva l'aria trionfante quell'armadio svanitore era estremamente prezioso stava dicendo allegramente a Mrs. Norris questa volta gioia mia Peeves ce lo toglieremo dai piedi i suoi occhi caddero su Harry e poi subito dopo sulla busta della Speedy Magic che come Harry si rese conto troppo tardi si trovava a mezzo metro da dove Filch l'aveva lasciata la faccia grigia del custode divenne paonazza Harry si preparò a essere sommerso da un'ondata di furore incespicando Filch si avvicinò alla scrivania afferrò la busta e la gettò dentro al cassetto l'hai l'hai letta? farfugliò no si affrettò a mentire Harry Filch si torceva le mani nodose se mai dovessi pensare che tu hai letto la mia corrispondenza privata non che sia mia è per un amico ma comunque sia Harry lo fissava allarmato il custode non gli era mai sembrato più folle di così gli occhi gli stavano schizzando fuori dalle orbite e una delle sue guance flaccide era in preda a un tic neanche la sciarpa di lana scozzese era di grande aiuto molto bene vattene pure e acqua in bocca non che e comunque se dici che non l'hai letta ora vattene pure devo scrivere il rapporto di Peeves vattene stupefatto di tanta fortuna Harry si catapultò fuori e fece il corridoio e le scale di corsa venire via dall'ufficio di Filch senza una punizione era probabilmente una sorta di record scolastico Harry Harry ha funzionato Nick quasi senza testa sgusciò furtivo da una classe dietro di lui Harry vide il reditto di un grosso armadio nero e oro che sembrava fosse stato fatto cadere da una grande altezza ho convinto Peeves a farlo cadere esattamente sopra l'ufficio di Filch disse Nick eccitato ho pensato che potesse distrarlo è stato lei chiese Harry pieno di gratitudine sì ha funzionato non mi sono neanche beccato la punizione grazie Nick si avviarono insieme lungo il corridoio Harry notò che Nick quasi senza testa aveva ancora in mano la lettera di rifiuto di Sir Patrick come vorrei poter fare qualcosa per aiutarla a partecipare alla caccia disse Harry Nick si fermò di scatto e Harry gli passò attraverso avrebbe voluto non averlo fatto fu come passare sotto una doccia gelata eppure c'è qualcosa che potresti fare per me disse Nick trepidante Harry forse chiederti troppo ma no non vorresti per caso di che si tratta chiese Harry bene quest'anno a Halloween ricorre il cinquecentesimo anniversario della mia morte spiegò Nick raddrizzandosi tutto e assumendo un contegno solenne oh esclamò Harry che non sapeva bene se dovesse dimostrarsi addolorato o felice dell'evento bene darò una festa giù in una delle grandi sale dei sotterranei verranno amici da ogni parte sarebbe un tale onore se ci fossi anche tu anche il signor Weasley e la signorina Granger sarebbero i benvenuti naturalmente ma forse preferisci la festa della scuola e guardava Harry come fosse sui carboni ardenti no si affrettò a rispondere verrò volentieri caro ragazzo Harry Potter ha la mia festa di comple morte e esitò pensi sia possibile che tu dica a Sir Patrick quanto mi trovi spaventoso e impressionante ma naturalmente rispose Harry Nick quasi senza testa lo gratificò di un sorriso radioso una festa di comple morte commentò Hermione interessata quando Harry dopo essersi cambiato finalmente raggiunse lei e Ron nella sala comune scommetto che non sono molti i vivi che possono vantarsi di aver partecipato a uno di questi festini sarà affascinante ma chi può desiderare di festeggiare il giorno della propria morte chiese Ron che aveva fatto solo metà dei compiti di pozioni ed era di umore piuttosto irritabile mi sembra così deprimente la pioggia continuava a battere contro i vetri che ora erano neri come l'inchiostro ma dentro l'atmosfera era calda e allegra i bagliori del fuoco illuminavano le soffici poltrone dove i ragazzi erano sprofondati chi a leggere chi a parlare chi a fare i compiti o come nel caso di Fred e George Weasley a scoprire cosa sarebbe successo se una salamandra avesse inghiottito un fuoco d'artificio filibuster infatti Fred aveva salvato da una lezione di cura delle creature magiche una salamandra del fuoco di un bell'arancio brillante che in quel momento stava bruciando dolcemente su un tavolo circondata da un capannello di curiosi Harry stava per raccontare a Ron e Hermione di Filch e del corso Speedy Magic quando ad un tratto la salamandra schizzò in aria con un fischio scoppiettando e sprigionando botti e scintille e cominciò a vorticare all'impazzata per la stanza la vista di Percy che imprecava contro Fred e George fino a perdere la voce lo spettacolo di stelle color mandarino che piovevano dalla bocca della salamandra e la sua fuga nel fuoco accompagnata da esplosioni fecero sparire sia Filch che il corso Speedy Magic dalla mente di Harry nei giorni che lo separavano da Halloween Harry ebbe tutto il tempo di rimpiangere la promessa affrettata di partecipare alla festa di comple morte tutti gli altri stavano felicemente pregustando l'evento organizzato dalla scuola la sala grande era stata decorata con i soliti pipistrelli vivi le colossali zucche di Hagrid erano state svuotate e trasformate in lanterne tanto grandi da ospitare tre uomini seduti e si vociferava che Silente avesse ingaggiato una compagnia di scheletri danzanti per uno spettacolo ogni promessa è debito ricordò Hermione a Harry con tono categorico sei stato tu a dire che sareste andato alla festa di comple morte fu così che il giorno di Halloween alle sette di sera Harry Ron e Hermione oltrepassarono la porta dell'affollatissima sala grande da cui provenivano invitanti bagliori di piatti d'oro e di candele per raggiungere i sotterranei anche il corridoio che conduceva alla sala della festa di Nick quasi senza testa era illuminato da candelabri ma l'effetto era tutt'altro che allegro candele lunghe e sottili nere come l'ebano la cui vivida luce blu gettava un cupo riflesso spettrale anche sui vivi la temperatura scendeva a ogni passo Harry rabbrividì e si strinse addosso gli abiti in quello stesso momento udì un rumore come di mille unghie che grattavano un'enorme lavagna e questa sarebbe la musica chiese Ron a bassa voce svoltarono un angolo e videro Nick quasi senza testa in piedi davanti a una porta addobbata con un panneggio di velluto nero miei cari amici disse cupo benvenuti benvenuti sono così contento che siate potuti venire si levò il cappello piumato e con un inchino li introdusse nella sala fu una visione incredibile il sotterraneo bruricava di centinaia di figure trasparenti dal colorito perlaceo che ondeggiavano su una pista da ballo danzando un waltzer al suono spaventoso e tremulo di trenta seghe musicali che un'orchestra su un palco anch'esso drappeggiato di nero suonava con altrettanti archetti di violino dal soffitto un candelabro diffondeva una luce blu notte da un altro migliaio di candele nere ogni respiro dei tre ragazzi si trasformava in nuvolette di vapore fu come entrare in una cella frigorifera diamo un'occhiata in giro suggerì Harry che voleva scaldarsi un po' i piedi stai attento a non passare attraverso gli spettri disse Ron nervoso e si avviarono lungo il bordo della pista da ballo passarono accanto a un gruppo di malinconiche suore a uno straccione in catene e al frate grasso un allegro fantasma di tasso frasso che stava parlando con un cavaliere con una freccia conficcata in fronte Harry non fu sorpreso di vedere che gli altri fantasmi giravano a largo dal barone sanguinario un macilento fantasma di serpe verde dallo sguardo fisso coperto di macchie di sangue argenteo oh no disse Ermione fermandosi di colpo giratevi dall'altra parte non voglio parlare con mirtilla malcontenta chi chiese Harry mentre facevano un rapido dietro front abita nel bagno delle ragazze al primo piano spiegò Ermione abita in un bagno sì è tutto l'anno che è fuori uso perché lei non fa altro che avere crisi di nervi e allaga tutto io non ci andavo mai se potevo evitarlo è terribile cercare di andare al gabinetto con quella che non la smette di piagnugolare guardate si mangia esclamò Ron dall'altra parte del sotterraneo c'era un lungo tavolo anch'esso coperto di velluto nero si avvicinarono entusiasti ma si fermarono di botto inorriditi l'odore era assolutamente disgustoso grandi pesci putridi erano stati disposti su baivassoi d'argento torte bruciate nere come il carbone erano ammonticchiate su altri piatti da portata c'erano poi una zuppiera di frattaglie verminose una forma di formaggio coperto di uno spesso strato di muffa verde e pelosa e al posto d'onore un'enorme torta grigia a forma di pietra tombale su cui tracciata con glassa color catrame si leggeva la seguente iscrizione Sir Nicholas de Mimsy Porpington morto il 31 ottobre 1492 Harry guardò esterrefatto un fantasma corpulento avvicinarsi al tavolo a covacciarsi e attraversare un salmone puzzolente a bocca spalancata riesce a sentire il sapore se ci passi attraverso di chiese Harry quasi rispose triste il fantasma e si allontanò immagino che lo abbiano fatto andare a male per renderlo più saporito commentò Ermione con aria saccente tappandosi il naso e avvicinandosi per guardare meglio le frattaglie putride possiamo andare da un'altra parte mi sento male disse Ron ma non avevano fatto in tempo a girarsi che all'improvviso da sotto il tavolo sgusciò fuori un omino che gli si parò davanti a mezz'aria salve a differenza dei fantasmi presenti Peeves il poltergeist era tutto meno che pallido e trasparente indossava un capellino di carta arancione una cravatta a farfalla che girava come un'elica e sul faccione maligno era stampato un largo sorriso un assaggino disse affabilmente offrendo una ciotola di noccioline ammuffite no grazie disse Ermione vi ho sentito parlare della povera Mirtilla disse Peeves con gli occhi che gli danzavano nelle orbite siete stati crudeli con la poverina fece un respiro profondo e gridò ehi Mirtilla oh no ti prego Peeves non riferirle quel che ho detto ci rimarrà malissimo bisbigliò Ermione tutta affannata non intendevo non mi importa se lei salve Mirtilla il fantasma tarchiato di una ragazza si era avvicinato furtivamente aveva la faccia più malinconica che Harry avesse mai visto per metà nascosta dai capelli dritti come spaghetti e da un paio di spessi occhiali perlati dicevate domandò scontrosa come stai Mirtilla chiese Ermione con finta disinvoltura è bello vederti una volta tanto fuori dei gabinetti Mirtilla tirò su col naso la signorina Granger stava proprio parlando di te le sussurrò subdolamente all'orecchio Peeves dicevo dicevo che stasera sei veramente carina disse Ermione lanciando un'occhiataccia a Peeves Mirtilla squadrò Ermione con sospetto vi state prendendo gioco di me disse e i piccoli occhi trasparenti le si riempirono subito di lacrime argente no sul serio non stavo proprio dicendo quant'è carina Mirtilla disse Ermione mollando a Harry e a Ron una potente gomitata nelle costole come no ma certo non mi raccontate frottore singhiosò Mirtilla ora le lacrime le inondavano la faccia mentre Peeves se la rideva felice sopra la sua spalla pensate che non sappia quel che la gente mi dice dietro Mirtilla grassona Mirtilla racchiona Mirtilla piagnona Mirtilla malcontenta e musona ti sei dimenticata Mirtilla brufolosa le sibilò Peeves all'orecchio Mirtilla malcontenta scoppiò in singhiozzi disperati e abbandonò il sotterraneo lanciandole dietro le noccioline ammuffite Peeves la rincorse gridando brufolosa brufolosa santo cielo esclamò tristemente Ermione in quel momento Nick quasi senza testa fluttuava verso di loro facendosi largo tra la folla vi state divertendo sì molto mentirono i ragazzi niente male come festa disse lui orgoglioso pensate che la vedova velata si è fatta tutto il viaggio dal Kent è quasi ora del mio discorso è meglio che vada ad avvisare l'orchestra ma proprio in quel momento l'orchestra attacque al suono di un corno da caccia tutti compresi i tre ragazzi ammutolirono guardandosi intorno eccitatissimi eccoli disse Nick quasi senza testa a denti stritti attraverso le pareti del sotterraneo irruppero una dozzina di cavalli fantasma montati da cavalieri senza testa il pubblico applaudì entusiasta anche Harry cominciò ad applaudire ma smise subito alla vista della faccia di Nick i cavalli arrivarono al galoppo al centro della pista da ballo e lì si fermarono impennandosi e poi ricadendo in avanti alla testa della squadra un fantasma corpulento che teneva sotto braccio la propria testa barbuta e suonava il corno balzò a terra sollevò in aria la testa per avere una visione panoramica della folla risate generali e ricacciandosela poi sul collo si avviò a gran passi verso Nick Nick tuonò con voce stentoria come te la passi sempre con la testa mezza attaccata scoppiò in una sonora risata e gli batté sulla spalla benvenuto Patrick disse Nick tutto rigido esseri viventi esclamò Sir Patrick scorgendo Harry, Ron e Hermione fece un balzo di finto stupore e la testa gli rotolò via dal collo il pubblico si torceva dalle risate molto divertente commentò Nick quasi senza testa con aria cupa non fate caso a Nick gridò la testa di Sir Patrick dal pavimento è ancora arrabbiato perché non lo abbiamo ammesso alla caccia ma voglio dire guardatelo il nostro amico io trovo snocciolò Harry tutto d'un fiato a un'occhiata di intesa lanciatagli da Nick trovo che Sir Nicholas faccia veramente paura che incuta terrore e ma sentitelo gridò la testa di Sir Patrick scommetto che te l'ha chiesto lui di dire così signore e signori se posso avere la vostra attenzione è arrivato il momento del mio discorso disse Nick quasi senza testa alzando la voce e si arrampicò sul podio sotto il fascio della gelida luce bluastra di un riflettore miei compianti signori signore e gentiluomini e con grande dolore ma nessuno udì più di questo in quello stesso momento Sir Patrick e gli altri cacciatori senza testa avevano iniziato una partita di hockey con lancio della testa e tutti si erano girati a guardare Nick cercò di riconquistare l'attenzione dell'uditorio ma quando la testa di Sir Patrick gli volò davanti al naso seguita da un applauso fragoroso rinunciò ormai Harry si sentiva letteralmente congelato per non parlare della fame non credo che riuscirò a resistere ancora bofonchiò Ron battendo i denti mentre l'orchestra rientrava in azione e i fantasmi tornavano a occupare la pista da ballo andiamocene convenne Harry indietreggiarono fino alla porta salutando e facendo inchini e un attimo dopo correvano a gambe levate lungo il corridoio illuminato dalle candele nere forse il puddin non è ancora finito disse speranzoso Ron precedendo i suoi amici su per le scale che portavano all'ingresso poi Harry l'udì di nuovo squartare fare a pezzi uccidere era quella voce la stessa voce fredda e assassina che aveva sentito nell'ufficio di Lockhart inciampò e dovete fermarsi aggrappandosi al muro di pietra tese l'orecchio fino allo spasimo si guardò intorno scrutò in lungo e in largo il corridoio debolmente illuminato Harry che cosa è ancora quella voce sito un attimo tanta fame da tanto tempo ascoltate disse Harry in fretta e guardandolo Ron e Hermione si sentirono gelare uccidere giunto il momento di uccidere la voce andava affievolendosi Harry fu certo che si stesse allontanando spostandosi verso l'alto mentre fissava il soffitto buio fu preso da un misto di paura e di eccitazione come faceva la voce a spostarsi verso l'alto era forse un fantasma per il quale i soffitti di pietra non erano un ostacolo da questa parte gridò e cominciò a correre su per le scale raggiungendo la sala d'ingresso lì non c'era speranza di sentire qualcosa perché dalla sala grande veniva il chiasso della festa Harry imboccò di corsa la scala di marmo che conduceva al primo piano con Ron e Hermione che cercavano di tenergli dietro Harry che cosa stiamo shh Harry tese l'orecchio in lontananza dal piano di sopra udì la voce sempre più debole sento odore di sangue sento odore di sangue gli venne un crampo allo stomaco sta per ammazzare qualcuno gridò e ignorando le facce stupefatte di Ron e di Hermione salì a tre alla volta i gradini della successiva rampa di scale cercando di ascoltare al di sopra del rumore dei suoi passi sempre correndo a perdifiato sfrecciò per tutto il secondo piano seguito a stento da Ron e Hermione e non si fermò fino a che non ebbe girato l'angolo trovandosi davanti all'ultimo corridoio deserto Harry che diavolo sta succedendo chiese Ron asciugandosi il sudore dalla faccia io non ho sentito niente ma ad un tratto Hermione trasalì e indicò le estremità del corridoio guardate sulla parete davanti a loro luccicava qualcosa si avvicinarono lentamente scrutando le tenebre tra le due finestre una scritta dipinta a lettere cubitali luccicava al chiarore delle torce la camera dei segreti è stata aperta temete nemici dell'erede cos'è quell'affare che pende là sotto chiese Ron tradendo un leggero brivido nella voce si avvicinarono e Harry per poco non scivolò sul pavimento c'era una grossa pozza d'acqua Ron e Hermione lo riacciuffarono e si spostarono lentamente verso la scritta con gli occhi fissi su un'ombra scura sottostante capirono subito cosa fosse e fecero un balzo all'indietro spruzzando l'acqua della pozzanghera Mrs. Norris la gatta del custode pendeva appesa per la coda dal braccio della torcia era rigida come uno stoccafisso e gli occhi spalancati fissavano il vuoto per qualche secondo rimasero impietriti alla fine Ron disse andiamocene via ma non sarebbe il caso di aiutarla disse Harry in tono incerto date retta a me disse Ron non ci conviene farci trovare qui troppo tardi un rombo come tuoni in lontananza annunciò la fine della festa da entrambi i lati del corridoio giunse lo scalpiccio di centinaia di piedi che salivano le scale e il cicaleccio soddisfatto di chi ha ben mangiato un attimo dopo gli studenti irruppero nel corridoio cicaleccio brusio e rumore si spensero di colpo alla vista della gatta Harry Ron e Ermione erano soli in mezzo al passaggio quando il silenzio cadde tra la folla degli studenti che si accalcavano per vedere quell'orrendo spettacolo poi nel silenzio qualcuno gridò temete nemici dell'erede la prossima volta tocca a voi sangue marcio era Draco Malfoy si era aperto un varco tra la folla ed era arrivato di fronte a loro i suoi occhi gelidi brillavano e il suo viso di solito esangue era in fiamme mentre sorrideva maligno alla vista della gatta inerte grazie